Ci bastava forse fare un comunicato stampa, ma in questa terra abbiamo imparato che spesso ci sono quelli che sottolineano quello che non funziona, ma nessuno sa quanto lavoro c'è dietro quello che funziona. Viva Dio questa terra che può sempre migliorare, infrastrutture, investimenti, vive, siamo sold out questa stagione e in questa stagione avete visto all'ingresso il collegamento di turisti, sono prevalentemente con la charterista, con gli hotel, come accade in tutti i posti del mondo. Abbiamo voluto nell'emore di fare a settembre gli stati generali della mobilità perché c'è un nuovo manager, Marco Franchini, degli aeroporti, per cui ci vedremo insieme con tutte le aziende Astra, Anafro, Calabria e Trenitalia per definire la nuova prospettiva della Calabria. Quest'anno, per quest'estate, considerate che a Sacra manca anche il sito internet, questa è la situazione che abbiamo individuato, per cui questo nuovo manager, perché questa terra è collegata al mondo, con l'autostrada, anche lì si sta migliorando, ci dicono che c'è la Libro per il 15 luglio, hanno fatto tutte le nuove stazioni di servizio, come richiesto anche la Didianas, e per collegare i tre aeroporti alle principali destinazioni turistiche abbiamo sperimentato questo investimento, quindi ringrazio tutti gli estercenti dei consorsi per avere per le individuali più corse, perché alcune volte i capitali arrivano dei voli e quindi non c'erano delle corse. Insieme a questo oggi presentiamo un'ottantina di autobus nuovi, che sono l'investimento che cambierà tutto il parco autobus della Calabria, perché è come anche Cosimo Carilli, il dirigente sta seguendo in questa fase queste quattro linee di azioni per un investimento complessivo di 255 milioni di euro. Brandizzati con il logo Calabria straordinaria, quindi si prosegue nel solco del marketing territoriale? Sì, brandizzati anche per differenziarli, per dare questo senso di questo servizio in più che vogliamo offrire a chi viene a dimorare in Calabria. Calabria straordinaria non è soltanto quello che stiamo facendo all'esterno, perché se non ti promuovono non esisti. Calabria straordinaria è parlare soprattutto a noi stessi. Basta con l'autolesionismo dominante, basta con il fatto che ci si debba sentire sempre ultimi, così non è. È ovvio che dobbiamo migliorare in tanti distretti turistici nell'accoglienza, negli investimenti, seguiranno gli investimenti che riguardano anche le infrastrutture turistiche, però la Calabria è viva, la Calabria quest'anno fa tendenza, c'è, è orgogliosamente, non folcloristicamente. Questo progetto cappello che Calabria straordinaria accompagna in primis la nostra consapevolezza, che è quella di sapere che noi ogni giorno dobbiamo essere perfetti, perché di turismo vogliamo campare tantissimo, vale il 12% del PIL, vorremmo portarlo al 20-25% di PIL, che significa tanto lavoro vero. Collegheranno i tre aeroporti principali in relazione ai voli che sono disponibili con le principali sia località intese come i capoluoghi di provincia, ma anche i principali luoghi di villeggiatura, sia marini che montani. E' importante questo, ritengo, perché nell'ambito di un'offerta di servizi a chi viene a visitare il Calabria, anche l'offerta di un servizio trasportistico che possa valorizzare i territori che vengono raggiunti, credo che abbia la sua importanza.